Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una delle cose che mi rende più felice in questo momento è i grandissimi risultati che stiamo ottenendo con Adalet. Stiamo stravendendo, il prodotto entra in negozi e c'era negozi, abbiamo già 15 licenze, stiamo aprendo negozi di tatuaggi, negozi di abbigliamento. Mi rendo assolutamente orgoglioso perché vuol dire che il marchio sta andando alla grande. Però quando vedete roba del genere, Amulet, che non è Adalet, non compratela. Vi aspetto nel mio mondo, nel nostro mondo.